Aspetta, la Bailey ha chiamato anche te. E come mai? Che mi importa? Mi basta stare lontana dall'Haltman. Ci vuole licenziare, vero? Perché dovrebbe licenziarci? C'è stato lo scambio di paziente in sala operatoria. Oh, dovrebbe licenziare te. Me? Voi non avete aggiornato il tabellone? E allora è così incazzata per questo? Così non va bene. Fammi vedere la cartella. Che cosa sta cercando? Tu che cos'hai? Un'amputazione sul campo. Sto valutando le altre lesioni traumatiche, ma di sicuro c'è una frattura pelvica e la pressione sotto le scarpe. Sì, questo è un gunter. Sul serio? Sul serio. Pensi che sappiano gestire un gunter? Secondo me gli serve un gunter. Cos'è un gunter? Cos'è un gunter. 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 Grazie a tutti.